Dimmi chi è Kobo Kobo, secondo alcuni è un narcotrafficante E' un assassino di monaci Kobo è una ragazza che ama il suo nemico Alcuni dicono che Kobo è morto, altri che è vivo Altri che è un morto vivente Kobo è in cerca della libertà Kobo è una ragazza che seduce suo fratello Kobo è un bambino che non crescerà mai Qualcuno dice che Kobo è la donna più bella del mondo E' un fiore nero Kobo è un santo Kobo è un illuminato Io so che Kobo ha combattuto E' un pacifista che lotta per l'indipendenza del suo paese E' una regina E' un cavaliere pazzo Kobo è l'ultimo uomo sulla terra Era una spia Potrei anche dirti che è un ricco seduttore Con un lato oscuro e perverso Kobo può essere chiunque Kobo sono i personaggi, le storie e i libri che ami Da leggere quando e dove vuoi Kobo, liberi di leggere Kobo è online e nelle librerie mondadori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti